Grazie a tutti Ioppa devi chiedere scusa a Francesca Cazzo Generale scusa a chi? E devo venire mollato Ti mando nonno Adolf Caru sarai mollato Stato Aspetta ancora Scusa Come Paola e Chiara Scusa 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 Siamo partiti Siamo partiti Ciao Buon'estate a tutti ragazzi Ci vediamo ai nostri appuntamenti Vi ricordo il costo dei grassi Il 12 di giugno La festa alla pinta Il 20 il rivembra del vice a Londa Poi seguite la pagina E vi diamo appuntamento Al prossimo anno Una nuova stagione Quarta stagione di Ipi e Paninari Non vi lasciamo soli quest'estate Tranquilli Poi torneremo in autunno E' una minaccia E' una minaccia Col dittone alla lucifero Così Lo faccio anch'io Buon'estate Buon'estate Ciao 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 E' un video Bamboli Sentite il sound Allora Questa sera Remember Edelweiss Salone della Pietra Castelnuovo E gli ingredienti Della serata Sono questi Guardate la pietra là Allora A partire dalle 20 e 30 Ampissimo E ricchissimo Buffet A 18 euro Ne abbiamo aggiunto Però una cosa Veramente sensazionale Cioè Maxi schermo Per vedere Gara 4 Della finale Scudetto Sassari Contro Grissinbon Quindi Se volete venire A tifare Grissinbon Abbiamo il maxi schermo E quindi siamo a posto Poi ovviamente Finita la partita Sparecchiamo Spegniamo il monitor E cominciamo a ballare La storia della disco music Dagli anni 70 Ad oggi Tutta 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 La balliamo La cantiamo Facciamo tutto ragazzi Mi raccomando Vi ricordo che Tutto è a scopo benefico Per la fondazione Don Zanni Se volete Se volete saperne di più www.fondazionedonartemiosanni.com Noi vi aspettiamo Sui nostri monti Stasera 20 giugno All'onda della pietra Per il Remember Edelweiss Estate Ditelo a tutti Ditelo in giro Organizzatevi Noi vi aspettiamo Tra l'altro È una magnifica giornata Anche su Stasera Si sta da dio Contro l'afa Della città Wow A stasera Ciao bamboli Yeah Wow Ciao Noi vi aspettiamo Della musica Dolce Dolce Tutto Acrava Tutto Betre la tv Betre la tv Baby la perche Eddo di Cana Yeah Betre la tv Betre la tv Betre la tv Eddo di Cana Yeah Betre la tv Betre la tv Himbe! Himbe! Come hai la trampa! video di rale voglia di figa 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 anche se anche se anche se la voce voglia di figa 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 grazie tra poco partiamo c'è il casino c'è la samba io sei io sei i giovani manzi sono anche i giovani manzi palestrati guarda 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 sei pronto sei pronto Capri sei pronto sei pronto sei pronto ma sono maschi o femmine quegli azionati però quella pionda va paura guarda la pionda dov'è no quella pionda che è stato ragazzo del generale Ioppa guarda guarda sentiamo dopo ragazzi tra poco arrivano gli hippie non viene ballato singa vert you say you say guarda Gabri guarda 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 ma che carino ma che bravi vai 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 il frattore piatturo wow questo uomo risca l'infarto siamo ben dispensati vai con le bionde e poi dicono che i palinari non emoziono non emoziono non te la fai e fai così e grandi arezioni mi piace altro che video virale questo qua altro che video virale questo ok ok ok